La posizione mia della Chiesa è quella di accompagnare sempre, non abbandonare mai. Togliere il dolore, quindi la sofferenza, ma non dare la morte. Il lavoro sporco della morte lo faccia la morte. Noi dobbiamo fare il lavoro bello dell'affetto, della compagnia, perché la gente non vuole morire. La gente non vuole soffrire, non vuole stare sola, non vuole essere abbandonata. In questo senso le cure palliative, che a mio avviso devono guadagnare molto più spazio, sia nella scienza che nella conoscenza e nella pratica. Perché questo aiuta.